Rigorosamente in fila, i collegiali si avviano verso il refettorio del collegio. Prego, accomodatemi. Prima, le ragazze. Grazie. Siate galantuomini. Quando è arrivato il minestrone, so, per mettermi a piangere. Non è pane, è buona. E per fine pane del 1960. Ecco, vedi, proprio di antichità, si sente. Ancora. Scusatemi. Un po' d'acqua? Nel 1960, le nostre tavole risentivano positivamente del boom economico. Le massaie erano alleggerite nel loro lavoro dall'arrivo di cibi conservati e precotti. La tradizione gastronomica rimaneva però alla base della cucina italiana. I piatti sulle nostre tavole erano regionali e seguivano le stagioni. Le nostre menze scolastiche non facevano eccezione. Noi ragazzi mangiavamo i piatti semplici e sani dei nostri nonni. Ma ritorniamo in collegio. Bene, di secondo abbiamo patate con lingua. Lingua di cosa? Che schifo. Che schifo. La lingua di mitè, cioè, schifo lo so proprio. Non avrei mai pensato che avrei trovato piatti così. È buono. Lingua e patata è la cosa più buona del mondo. Sì. Ai prezzi. L'ho mangiata una volta e io non la mangio più. Perché poi c'erano tutti i puntini e quindi era tutto buono. Signor Zamparin, non mangi solo il pane. Guardi che c'è tutto il resto da non fare. È tutto saporito. Questi non sono modi di fare. Signor... Ditemi. Scusate, posso qua sopra? Ehi, voi. Lei si trova simpatico, vero? No, io no. Però quando mi conosco... Allora, guardi, basta io riprendere i suoi compagni. Basta lei. Se avessi bisogno di un assistente... C'è anche lui. No, ne trovo un altro, grazie. Quando ero piccolo, nella mia famiglia, essendo scalmanato e lo sono ancora, c'erano le stesse regole. Perché dal mio comportamento, dato come mi comportavo, ci sono dovute nascere queste regole. Perché sennò non mi sarei messo in riga. Ma infatti non è successo comunque. Certo che è obbligata a mangiare. Forse a casa sua no, ma qui... Vabbè, dipende pure che si mangia. Le ho chiesto di parlare? No, no, vabbè, no. Io non sono consapevole se vomito sul tavolo. Basta. Basta. B-A-S-T-A. Basta. B-A-S-T-A. Signor Dimitri, sparecchi. Grazie. Sì, ma è piaciuto? Signor Dimitri, lo sa che la posata va sul piatto di sopra così aiuta? Wow, davvero. Signor Dimitri, questa è l'ultima volta che lei mi risponde. Sono stata chiara? Non ho capito? Sì. Sì, signora. Sì. Sì. Sì.